ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video per quanto riguarda una piccola collaborazione che ho fatto e degli acquisti fatti su instagram per quanto riguarda la collaborazione il sito ovviamente vi metterò tutto nell'infobox si chiama lasnv ovviamente con una spesa minima di 50 euro verranno scontati scusate con una spesa minima di 50 dollari verrà scontato di 6 dollari ovviamente questo codice sconto che è make up 5 off che vi metterò qui e nell'infobox può essere utilizzato per tutto il tempo cioè non c'è una data stabilita quindi sono molto contenta di questa cosa allora vi faccio vedere cosa ho scelto io perché mi hanno fatto scegliere due prodotti arrivato in questa busta ovviamente è il prodotto è questo mi servivano allora c'è una vasta scelta di borse di tracolle borse grandi borse piccole marsupio anche maschile devo dire che quelli maschili mi piacevano tantissimo e la prossima volta prenderò anche qualcosa maschile allora la borsa viene diciamo mandata in questa bustina e la borsa in questione è questo è un color beige perché io non ho borse beige è molto piccola mi piace tantissimo perché piccola perché sto avendo difficoltà alle spalle vedete la mia postura dovrei stare messa così ma mi fa male perché ho utilizzato spesso le borse quelle grandi poi mettendo di tutto e di più perché marito il cellulare il portafoglio le chiavi se viene mio figlio idem con patate quindi preferisco avere una borsa piccolina non posso mettere niente ve li tenete in tasca e quindi ho scelto questo tipologia di borsa ha una zip qui una cerniera all'interno è foderato ovviamente poi da quest'altro lato abbiamo un'altra tasca ma questa volta e patch e si apre in questa maniera molto molto carina devo dire e mi piace anche come diciamo è fatta poi togliamo la carta c'è la carta la plastica e vi faccio vedere l'interno all'interno abbiamo due tre scompartimenti con questo questo piccolo quella al centro e poi un altro da questo lato devo dire che molto capiente cioè sarà guardate bene molto molto capiente questa è la tracolla devo dire che mi piace tantissimo perché ovviamente abbinata alla borsa mi piacciono tantissimo questi colori perché adesso in estate si stanno utilizzando questa tipologia di colori con il verde marroncino chiaro il beige e quindi io già mi sto diciamo avvicinando a questa sperando che arrivi l'estate dovrebbe arrivare giusto qualcuno vi ha chiamato che ha detto qualcosa comunque io la vedo abbastanza resistente come tracolla vedete la potete mettere sia corta e la potete anche allungare spostando il gancino e questa è la tracolla mi piace molto ed è il fatto che mi piace di più è che abbastanza larga quindi la posso appoggiare tranquillamente perché vi ripeto sto avendo dei problemi e quindi la vecchiaia arriva l'altra cosa che ho scelto è una pochette visto che dovrò fare dei viaggi almeno spero che farò dei viaggi ho preso questa questa l'ho vista in tantissimi video di ragazze americane di tutte di più perché la utilizzano per mettere dentro il make up scusate la forma ma l'ho lasciata dentro il sacchetto sbagliato la dovevo lasciare di fuori comunque è fatta così io ho preso il color cuoio che mi piace tantissimo devo essere sincera mi stra piace questo colore ha la maniglia quindi la potete portare in giro e adesso la apro a questa cerniera abbastanza forte e resistente e questo è il contenuto cioè voi quando aprite sul vostro vanity o sul tavolo dove siete diciamo in vacanza questo è quello che voi vedrete quindi vedrete tutto quello che c'è all'interno e mi piace tantissimo perché a questa parte con l'elastico una zip all'interno che potete mettere i pennelli e poi da quest'altro lato la stessa identica cosa con l'elastico a me piace tantissimo perché chiusa è così quindi abbastanza come si dice compatta invece aperta diventa così io posso dirvi che prima di tutto questo colore mi stra piace sicuramente la utilizzerò e posso anche dirvi che questo colore già l'ha visto mio figlio e mi ha detto dice mamma quando vado in vacanza questa estate credo che la porterò con ma perché può mettere tutto quello che vuole non c'è bisogno che viene utilizzata solo per il make up ma può essere utilizzata anche per altre cose devo dire che mi piace questa non fa nessun odore e invece questa fa un pochettino di odore di chiuso di plastica non so come dirvi comunque mi è piaciuta tantissimo questa collaborazione sono molto contenta quindi vi ricordo il mio codice sconto che make up 5 off tutto attaccato e niente se vi va andate a vedere qualcosa giù troverete tutti 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 i link poi allora continuiamo vi faccio vedere il sito la pagina scusate di instagram dove ho acquistato che si chiama moda in moda è questa ve la faccio vedere perché sono rimasta contenta di degli acquisti che ho fatto comunque poi ve la scriverò in caso perché non capisco perché non si vede non si vede bene ecco qua moda in moda ho acquistato diverse cose tra cui la camicia che vi faccio vedere adesso che è questa è una camicia oversize molto molto bella il tessuto mi piace tantissimo specialmente in questo periodo che fa leggermente freschetto siamo a maggio però devo dire che mi piace mi piace il colore che è un verde bottiglia il tessuto che l'ho stirata in 0 2 secondi il modello perché mi piace tantissimo perché tipo con la manica un po larga e il polsino stretto e oversize già ve l'ho detto io ho preso la misura l se mi sbaglio era sml e io ho preso la l è abbastanza larga e il tessuto che veramente un tessuto fresco e che veste è abbastanza diciamo casual un po più non troppo formale non troppo aderente che in determinati periodi mi piace devo dire che è fatta benissimo in tutto e per tutto quando l'ho stirata l'ho stirata con una leggerezza unica veramente l'ho stirata velocissimamente senza trovare pieghe senza trovare difficoltà e tutto ha un taschino qui sul lato e devo dire che mi piace tantissimo poi la camicia sono mi sbaglio vediamo 19 99 poi ho preso un vestito che in questo momento non ce l'ho perché lo sto facendo modificare dalla dalla sarta vi faccio vedere la foto è questo vestito qua vedete allora mi piace tantissimo proprio il vestito fatto così l'unica cosa che per me è un pochettino corto vedete dove gli arriva sopra il polpaccio e quindi io qui sto facendo fare delle modifiche però il vestito è bellissimo anche di questo se non mi sbaglio c'era sm non mi ricordo comunque ho preso la misura più grande ovvio e per ultimo ho preso questo che è il vestito più visto su instagram ed è questo ovviamente non ve lo posso far vedere tutto perché è pesantissimo cioè è lunghissimo l'avete già visto in qualche video comunque questo è il vestito con le bocche qui ed è bellissimo io lo lascio leggermente aperto perché il seno ce l'ho un po' diciamo che non riesco a bottonare tutti i bottoni ve l'ho lasciato aperto per farvelo vedere è pesante allora ha l'elastico quindi vi stringe in vita ed è bello vi stringe in vita quindi vi fa una vita bellissima poi ha la cerniera che possiamo anche chiudere e poi i bottoncini proprio dei jeans aspettate che la chiude adesso ve la faccio vedere perché ovviamente l'ho provata l'ho provata con una canotta di sotto perché pensavo tanto lo posso mettere solo qualche volta visto che faceva caldo quando l'ho acquistato invece no invece non l'ho potuto mettere perché sentivo freddo perché il jeans ovviamente fa freschezzo comunque così è chiuso vedete con tutte queste borche con tutte queste pietre cioè bellissimo l'effetto che fa mi piace tantissimo ovviamente ha le tasche molto molto belle sempre con le bocchie le maniche sono normalissime scusate spero che non sentite tutto il rumore leggermente a sbuffo qui e poi con tutte le borche qui ovviamente non diciamo non mi sta proprio direttamente al polso ma un pochettino più in su a me non dispiace perché si vedono poi tutti i bracciali mi piace tantissimo e la parte di dietro è sempre così con l'elastico e devo dire che mi strapiace tantissimo mi sono trovata veramente molto molto bene e di questa non so se no credo che non ci sia la misura non mi ricordo sono sincera comunque ho preso questa bellissimo mi piace tantissimo sono rimasta molto molto contenta di questo poi andiamo all'ultimo che se non mi sbaglio se mi seguite anche su instagram avete visto che sono stata truffata capite bene il mio significato di truffata perché ho acquistato delle cose su instagram contattando la persona mi posso anche far vedere la chat perché a me non interessa anzi io l'ho bloccata l'ho segnalato fatto di tutto e di più perché ci sono rimasta malissimo ci sono rimasta malissimo perché non pensavo che esistessero queste persone forse l'ho bloccata non si vedono più forse le cose sì perché poi lei si è cancellata vediamo se ho qualche foto perché credetemi ci sono rimasta di un male mi sono sentita proprio c'è non riesco nemmeno a farvi capire come mi sono sentita perché ci sono rimasta di un male che a dirlo a parole non riesco credetemi non riesco sto cercando perché poi l'ho bloccata allora la pagina in questione è questa non so se si riesce a vedere questa la pagina è questa niente queste sono tutti i messaggi che io gli avevo scritto non so se si riescono a vedere perché ci sono le luci tutto comunque gli avevo fatto vedere le cose che io volevo e mi aveva mandato le foto le foto del dei vestiti tra cui uno era questo ma assolutamente sono arrivati prima di tutto in un pacco più piccolo di questo ed erano due completi il pacco era piccolissimo e le cose messe stropicciate cioè io quando le ho prese erano così stropicciate in questa maniera ve lo giuro che mi veniva anche da piangere perché avevo speso 100 euro quindi 50 euro a vestito il vestito era stropicciato in questa maniera l'ho portato dalla sarta è fatto allora gli ha passato il ferro e non so se riuscite a vedere che è tutto tirato quindi lei mi ha spiegato che è fatto tipo con due punti e la colla cioè qua dentro hanno messo della colla perché se no non si spiega questa arricciatura vedete c'è la cosa che sono rimasta proprio cioè ci sono rimasta malissimo perché fatto veramente veramente male io con questi soldi avrei preso di tutto e di più ci sono anche altre parti dove è fatto male questo poi aveva un buco qui sulla spallina che la sarta mi ha ricucito e i pantaloni devo dire la misura era giusta erano tutti stropicciati quindi lei me l'ha stirato e tutto invece dell'altro completo era assolutamente indossabile proprio perché i pantaloni erano di un'altra misura totalmente erano piccoli e poi io l'ho fatti modificare questo è tutto ovviamente stati attenti quando ho acquistato queste cose perché io l'ho acquistato con il contrassegno l'ho contattata appena è arrivato il pacco per dirgli che non mi è piaciuto la stoffa e tutto e quindi volevo che mi cambiasse almeno il pantalone e tutto lei non mi ha risposto assolutamente anzi mi ha letteralmente bloccato quindi questo è il ringraziamento dei miei 100 euro niente dopo di questo io vi saluto ringrazio per quanto riguarda la collaborazione e per quanto riguarda i miei video spero che ci saranno altri in futuro per questo video è tutto io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao